Ciao ragazzi, oggi si parla di Sandro Tonali, che è un giocatore che in realtà conosciamo da un bel po', almeno su questo canale. Già due anni fa ne parlavamo e lo accostavamo all'Inter, nel senso che ci sarebbe piaciuto vederlo all'Inter, ancora quando giocava in Serie B. Si diceva fosse un giovane di prospettiva, un giovane che si poteva magari prendere per farlo crescere in casa e magari introdurlo in prima squadra. Ora, oramai i discorsi sono diversi, chiaramente, rispetto a quelli di due anni fa, perché è cresciuto molto questo giocatore e quindi è assolutamente appetibile direttamente per la prima squadra. E quindi oggi lo conosciamo una volta per tutte bene, facciamo un video dedicato a lui. Iniziamo un attimo col dire che è un giocatore italiano, un giocatore ventenne, quindi diamo qualche dato. È alto 1,81 m, quindi anche un giocatore, diciamo, abbastanza medio o completo, diciamo così, come struttura fisica, anche se in realtà, pur essendo alto 1,81 m, che ha un'altezza abbastanza media, ha un baricentro molto basso. Questo gli permette di avere delle caratteristiche che poi andiamo a vedere. Per quanto riguarda il calciomercato, cioè le trattative, queste cose qui, è un giocatore che vale più o meno sui 50 milioni, grosso modo. Poi è difficile capire esattamente cosa viene chiesto o una cifra più o meno che può accomodare le parti, no? Che sia l'Inter o la Juve, perché è seguito da più squadre. Poi ovviamente lasciamo stare il fatto che ogni giorno venga fuori, è fatta, ok, ha dato il sì, ha aperto la pista. In realtà sappiamo che sono tutte voci, ma prendiamole con le pinze. Il fatto è che interessa sicuramente all'Inter da molto tempo, perché Marotta l'aveva visionato, comunque era sulle sue tracce da anni, forse addirittura da quando era la Juventus. È un corteggiamento di lunga data, è un approccio che deriva da molto distante, quello dell'Inter. La stessa cosa vale però per la Juve e per altre squadre che lo stanno inseguendo. Dicevo, vale più o meno un 50 milioni e dopo, alla fine del video, perché prima bisogna un po' capire che giocatore è, perché bisogna chiarire alcuni punti, alla fine del video vediamo se ne vale la pena, come può giocare nell'Inter, a livello economico e finanziario che impatto potrebbe avere e tutti i pro e contro dell'operazione eventuale. Intanto parliamo del giocatore, perché molto spesso l'abbiamo sentito accostare, almeno io, a Pirlo. È il nuovo Pirlo, eccetera, eccetera. E secondo me è in parte sbagliato. Chiaramente ha delle somiglianze, i capelli rimandano un po', il suo modo forse di correre, forse ha una fisionomia a livello estetico che ricorda un pochino. E poi, diciamo, la posizione in campo, forse, no? Che è più di ogni altra cosa, il fatto che sta davanti alla difesa, lo fa ricordare. Però in realtà sono giocatori molto diversi. Adesso vediamo il perché. Allora, le diversità nette sono quelle che hanno a che fare con le caratteristiche tecniche e fisiche dei due giocatori. Anzi, per certi versi oserei dire che Tonani è l'opposto di Pirlo. Il regista non è un ruolo in campo, ma è un compito. Può essere regista anche un terzino o un trequartista. Per forza di cose non è un regista quello che sta davanti alla difesa. Ho fatto sempre l'esempio dell'Inter con Cancelo. Per esempio, qualche anno fa, il regista a centrocampo non era, quando c'era Cancelo, non era Gagliardini o Borcavalero, tutto sommato, o Vessino, ma era proprio Cancelo. E poi Raffigni addirittura, anche lui era una sorta di regista, però offensivo. Quindi il regista è un compito. E già questa è una cosa importante da dire, perché altrimenti si fa confusione. Pirlo era nato come trequartista. Già all'Inter, perché è passato anche per l'Inter, e nel Brescia giocava da trequartista. È sempre stato un regista, però, nonostante facesse il trequartista, perché era un giocatore che tesseva il gioco, che creava gioco. È sempre stato così Pirlo, sin da giovane età. Bravo nella rifinitura, più bravo negli assist e nei passaggi rispetto al tiro. E proprio per questo Mazzone, allenatore del Brescia, allora di Pirlo, l'ha portato indietro valorizzandolo. Tonali, invece, ha sempre giocato a centrocampo, assolutamente, come interno soprattutto. Ora nel Brescia gioca dietro, addirittura, ma ha sempre giocato comunque a centrocampo, come centrocampista completo e moderno. Ottimo in copertura, perché è molto bravo in copertura Tonali. È bravo in interdizione, addirittura anche nel mettersi tra le linee, ma anche andare a recuperarla alla palla. Proprio è uno che si dà anche da fare a livello di quantità e fa sportellate. E poi è molto bravo nella distribuzione del pallone recuperato. Quindi, più che un regista, io lo definisco un metodista. Abbiamo già parlato della differenza tra i due ruoli, no? Un metodista perché è uno che ha visione di gioco, dicevo, ha intelligenza tattica, assolutamente sì, nonostante la giovane età, e soprattutto sa dosarsi nei duelli. Cioè, capisce quando affondare il tackle, affondare il contrasto oppure no. Questa è una cosa molto importante, che gli è valsa la titolarità proprio lì dietro. Cosa che, per esempio, Brozovic a volte non ha... Cioè, è molto migliorato, ma non sa fare molto bene, no? Il dosarsi, a volte compie dei falli, fa delle azioni che sono pericolose e che da un regista non ti aspetti, perché in effetti... Cioè, da un regista, scusatemi, appunto, da un giocatore che gioca nella posizione, diciamo, canonica del regista, perché poi abbiamo visto, come ho detto prima, il regista è un compito, però da un giocatore davanti alla difesa ti aspetti un'intelligenza tattica per cui in alcune posizioni eviti di entrare magari direttamente sull'uomo perché altrimenti la punizione può essere molto pericolosa. Ecco, questa cosa la fa molto bene Tonali, è un giocatore molto maturo. Come potrebbe giocare nell'Inter? Un giocatore del genere? Beh, sicuramente può giocare dietro anche nell'Inter perché l'Inter gioca con un centrocampo a tre, o meglio, a cinque, ma insomma, il centrocampo all'interno è a tre, potrebbe diventare a due con il vertice alto, però intendiamoci, per adesso prendiamo la versione standard dell'Inter, può tranquillamente giocare dietro, quindi al posto di Brozovic, perché ne ha la possibilità, appunto, è un metodista. Potrebbe anche giocare a due, nei momenti in cui l'Inter dovesse provare un 3-4-1-2 con Eriksen davanti, e Tonali potrebbe tranquillamente fare anche il mediano a due, e potrebbe addirittura giocare come interno a tre. Chiaramente è un interno di qualità, ma è un interno anche di quantità, come abbiamo visto. Anche Barella ha qualità, ma ha quantità. Sono giocatori un po' diversi, Tonali e Barella, però è per farvi capire che è un giocatore che può adattarsi a più ruoli. È ottimo, Tonali, ad aprire il gioco, fa dei buoni lanci, questo assolutamente sì, però è vero anche che predilige i passaggi corti. Diciamo che alla creatività preferisce l'ordine, e questa è una grande diversità da Pirlo, oltre a quella che ho detto prima. Ho scritto una frase che secondo me sintetizza al massimo questa grande diversità tra i due, quasi questo senso opposto di due giocatori. Tonali ordina e ottimizza, Pirlo inventa. Sono proprio due giocatori diversi su questo piano, pur avendo entrambi grande qualità. Forse Pirlo ha un livello di qualità eccelso, Tonali non ha ancora quel livello di qualità, però è anche vero che ha vent'anni e comunque è un giocatore di qualità, intendiamoci, però Pirlo sappiamo che è un diamante su questo aspetto. Oltre a questo, un'altra differenza è che Tonali ha grandissima resistenza, sia di corsa, quindi di fiato, sia anche agli urti, quindi è un giocatore che tiene botta. Pirlo invece sappiamo che non era assolutamente un giocatore fisico, era un giocatore puramente creativo, un inventore, aveva bisogno della palla e non di correre a recuperarla più di tanto o di fare sportellate. Invece Tonali appunto è molto bravo in questo, riesce proprio a tenere spalla a spalla i duelli e a farsi forza e mi rimando all'inizio, quando vi dicevo che ha il baricentro basso, questa è una cosa tipica anche di Lautaro Martinez, Tonali è più alto, però le gambe, l'attacco delle gambe è più basso e ha le gambe più forti rispetto a Pirlo, intendo. Quindi riesce a tenere molto bene il terreno, ha più grip si potrebbe dire, no? Quindi questo gli consente di essere appunto resistente, ma anche bravo nel recupero della palla e nel controllo della palla, nella difesa del pallone. Vince molti scontri fisici, se guardiamo le sue statistiche, a partita sono molto buone per quanto riguarda i duelli. Mi sembra, non vorrei sbagliare adesso, ma mi sembra che vinca 6 o 7 duelli fisici a partita, che non sono pochi, sono tanti, eh? Se pensate i duelli singoli, cioè puri, tra un giocatore e un altro giocatore, non sono pochi, sono un buon numero, considerando che comunque è un giocatore di qualità, ok? È un bel numero veramente di contrasti vinti. Un'altra cosa molto importante che mi sono segnato, a livello mentale, sapete che voglio fare un'analisi completa sul giocatore, come ho fatto anche per Kumbulla, come ho fatto anche per Timo Werner e per Semedo, eccetera. È un giocatore molto solido mentalmente, anche lui, oltre a quelli che abbiamo citato ultimamente, infatti. Probabilmente questo interessa molto all'Inter, cioè l'Inter vuole giocatori ormai giovani, che siano o più maturi, ma vuole giocatori concentrati. Quindi abbiamo visto anche che l'inizio dell'avventura interista è cominciata proprio con la messa fuori rosa di giocatori non particolarmente quadrati dal punto di vista mentale, no? Quindi Tonali è l'esempio di questo. È un giocatore molto solido, che non ha paura di fare errori. Se fare errori non è condizionato, gioca la palla, non ha paura di rigiocarla, anche se sbaglia il passaggio. E questo, per quanto riguarda un giovane, è un'ottima cosa. E mi fa presupporre, così mi fa pensare, al fatto che potrebbe non sentire troppo un balzo di categoria. Infatti non ha particolarmente patito il fatto della Serie B, dalla Serie B e la Serie A. Ha mantenuto la sua titolarità senza battere ciglio. E questa è un'altra cosa importante. Pur rimanendo sempre, tra l'altro, il perno della sua squadra. Un'altra cosa molto importante, che si va ad aggregare al discorso pulizia, controllo palla e tutto quanto, e metodo, e metodista, mettere ordine, è il fatto che ha un ottimo rapporto con il pallone, dal punto di vista della pulizia, della purezza del gesto tecnico. Questo cosa significa? Significa che tratta la palla in maniera perfetta. Ha un bel posizionamento del corpo, un bel tocco di palla, un bel impatto con il pallone, e questo consente di far viaggiare molto velocemente il pallone. Cioè, lui quando decide di fare un passaggio, è molto deciso di volerlo fare. E gli dà la forza giusta, la dosa giusta, e arriva con il tempo giusto al suo compagno. Non arriva troppo lentamente. Quindi non è uno che rallenta la manovra. È vero che fa i passaggi corti, come lo fa ad esempio anche Borca Valero, però gli sa fare appunto con il tempo giusto. Non è che perde, non rallenta la manovra. È un giocatore che dà ritmo alla manovra. Come vi dicevo, vale 50 milioni, più o meno. Cioè, prendiamo 50 come cifra così, ovviamente non mi interessa adesso fare le pulci sul valore effettivo. Anche perché non ci è dato saperlo, in realtà. Ma il fatto che sia molto giovane consente un contratto lungo, e il contratto lungo consente un ammortamento più spalmato. Quindi se lo acquistiamo a 50, praticamente ci va a pesare 10 milioni all'anno sul bilancio, come costo d'esercizio. Quindi non è male questa cosa. È un giocatore fortissimo, grande prospettiva, però che non ha ancora avuto un vero contratto di livello. E questo ti farebbe pensare che potrebbe anche non richiedere subito un contratto da top player. Quindi potrebbe essere un acquisto per carità, dal punto di vista del cartellino, sì, oneroso. Ma dal punto di vista realmente di impatto a bilancio, non troppo pesante. Conta l'impatto a bilancio, non contano i soldi, i cartellini. Oppure, poi c'è gente che fa anche confusione con il metodo di pagamento. Mi rendo conto che ci sono tante cose, ma... Ok, cioè, cercate un po' di fare piazza pulita di alcuni dubbi che avete, e cercate di seguirmi un attimo sul percorso, perché altrimenti ci si confonde troppo. È un giocatore poco impattante in rapporto ai soldi totali del cartellino che dobbiamo tirar fuori, ok? Ah, chiaramente, parentesi, se avete dubbi, chiedetemi i commenti che tanto vi rispondo. È che se no dovrei fare ogni video 50 minuti. Avendo 20 anni, vi dicevo, non occupa slot in lista per quanto riguarda il regolamento della squadra, dell'iscrizione della squadra ai campionati, perché se sei sotto i 21 o 22 anni, dipende dalle competizioni, tu puoi anche non essere inserito e puoi comunque giocare in qualsiasi tipo di competizione. E questo è un'ottima cosa perché ti consente di avere un giocatore in più in squadra, perché tanto lui c'è comunque e comunque è scritto. Potrebbe essere un titolare della nazionale, quindi una cosa positiva è il fatto che è un italiano, è un nazionale, potrebbe intendersi anche con Barella e c'è più intesa e quindi possiamo anche trarne beneficio. Quindi è un altro punto a favore per poter fare, per pensare a un affare del genere. Penultima cosa, Tonali è un giocatore polivalente, quindi questo come vi dicevo prima vuol dire che è un giocatore che può giocare in più ruoli diversi e quindi può entrare in maniera molto facile, molto naturale, oserei dire, nelle rotazioni della mediana, che sia per la mediana 2, che sia come vice Brozovic, che sia perché gioca titolare, perché Brozovic non può, oppure chi lo mette addirittura a fare la mezzala perché in quella partita vuoi cambiare a centrocampo, insomma è un giocatore che anche pur non venendo come titolare, magari perché è giovanissimo, ti viene come rincalzo, ma uno di quei rincalzi i famosi giocatori semititolari, quelli che sono i dodicesimi, i dodicesimi uomini, quelli che comunque entrano sempre in campo, anche non partendo dall'inizio, comunque girano. E quindi potrebbe accettare magari di avere questo tipo di ruolo, perché comunque è difficile garantire una titolarità assoluta a un ventenne che viene dal Brescia in qualsiasi top squadra, però l'Inter gli offre questo tipo di possibilità, no? E poi ricordiamoci che l'Inter è una squadra che deve giocare 60 partite all'anno, cioè si punta ormai a concludere tutte le competizioni, che sia Europa League, Champions League, campionato, Coppa Italia, eccetera eccetera, e quindi è un giocatore che può comunque trovare spazio, quindi dal punto di vista gestionale e dell'ottimizzazione delle risorse non è uno sperpero pagare un prezzo per Tonali, perché è un giocatore che comunque lo vai ad adoperare e ha un futuro più che eroseo davanti a lui. Quindi io sono assolutamente favorevole a un eventuale acquisto di Tonali, assolutamente. Chiaro, se ti chiedono 100 milioni magari è diverso, però a queste cifre qui, sui 50 o robe così, sono assolutamente d'accordo. Soprattutto contando che un giocatore come Borca Valero probabilmente uscirà e quindi ti serve comunque un giocatore che possa degnamente sostituire o addirittura prendere il posto di Brozovic, perché non hai altri giocatori che possano giocare lì. E sappiamo benissimo quando mancano o Borca o Brozovic in quel ruolo quanto si fa fatica a gestire la mediana, perché serve un giocatore che sia un po' il motore della squadra, che dia ordine alla squadra. Quindi è assolutamente un investimento, secondo me, vantaggioso, quello di eventualmente di Sandro Tonali. In conclusione, spero che vi sia piaciuto e che sia stato utile. Vi ricordo che se apprezzate il mio lavoro e se volete sostenere il mio, anzi migliorare i miei video, il mio progetto, potete farlo con un abbonamento che lo trovate vicino al tasto iscriviti sotto nel canale. Io vi saluto e vi do appuntamento a, in realtà, a stasera direttamente, come vedete qui dalla lavagna, sull'altro social, che facciamo uno speciale super mega interessante, secondo me, su Galilei. E niente, vi saluto al prossimo video. Mi raccomando, lasciate un like se vi è piaciuto, commentate se avete dei dubbi sulla parte anche un po' economica, eccetera, e condividetelo se volete farlo arrivare agli altri. Ragazzi, buona serata e forza Inter!